Roma Sposa è una delle fiere dedicate agli sposi, ai matrimoni, uno dei saloni più importanti del settore, è un salone nazionale dell'abito da sposia e cerimonia, però mi sembra che non si parli soltanto di abiti a Roma Sposa, ma anche di tutto quello che è l'indotto o i servizi relativi al matrimonio, alle nozze. Si svolge, si tiene dal 20 al 23 ottobre al Palazzo dei Congressi all'Eur e chi è, soprattutto chi sta per sposarsi, ma anche chi è interessato a questo mercato del matrimonio, delle nozze, perché c'è tutto un mercato, è invitato comunque, è bene, che faccia un salto al Palazzo dei Congressi all'Eur dal 20 al 23 ottobre 2011 per Roma Sposa, salone nazionale dell'abito da sposia e da cerimonia. Tutti all'Eur.